Buonasera, sono qui a dirvi che quell'iniziativa dell'autolavaggio non funziona. Ho fatto un po' di conti e mi pare che ci vogliono almeno 6-7 mesi per raggiungere una cifra significativa per pagare le bollette della Chiesa. Allora ho pensato che possiamo pensare insieme a qualcos'altro, tipo venite a messa la domenica e nel cestino non mettete un centesimo, mettete direttamente 2 euro a persona. Penso che così vada molto ma molto meglio e recuperiamo molto ma molto prima e anche molto ma molto di più. Che ne dite?